I valori della resistenza, i valori dell'antifascismo, sono valori fondativi della nostra democrazia e della nostra Repubblica, non dobbiamo mai dimostrare. Ed è importante ribadire questo in un momento in cui si vedono delle immagini che non vorremmo vedere. Mi sembra sia giusto dire qui che nella nostra democrazia non c'è spazio per coloro che vogliono imporsi con le intimidazioni e con la violenza. Non c'è spazio. Questo è il passato del nostro Paese, sono le radici del nostro Paese, sono il presente che saranno il futuro del nostro Paese. Questo è l'impegno che anche qui, simbolicamente, in questo momento, intendiamo prendere. Ci sono momenti in cui bisogna dirsi con chiarezza quali sono le sfide che abbiamo di fronte e quello che bisogna fare. Grazie mille.